Onore a Peter Efti, io sono il direttore marketing di Molteni EC, mi occupo anche della Vitra in Italia e questa sera sono venuto qua a questa bellissima apertura e come l'anno scorso ci sono un sacco di cose molto interessanti fuori salone credo che una cosa importantissima è che il salone non può convivere senza il fuori salone diciamo che le due cose sono simbiotiche e importanti e questa iniziativa interna come tutti gli anni è molto interessante e credo che sia importante esserci e vedere che cosa succede e poi attira tantissima gente soprattutto un pubblico giovane interessato al design